Il Teramo vuole continuare a cavalcare l'onda dei risultati. Nel turno infrasettimanale di Serie D al Bonolis arrivano a Vigor Senigalli in difficoltà dopo l'ottimo avvio. Marco Pomante cambia poco rispetto agli undici scesi in campo contro l'Ancone nel derby dell'Angelini. L'unico indisponibile è Messori che sta recuperando da un problema muscolare accusato nei giorni precedenti al derby. Torna a titolare Pavone a spese di Turena e il Tridente, mentre Sanseverino rimpiazza Loncini. Dall'altra parte Aldo Clementi deve fare conti con le assenze per infortunio, alle quali va a sommarsi la squalifica di Fernandez. Chiavi dell'attacco affidate all'esperienza di Capitano Denis Pesaresi. Terna campana diretta da Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco. Il Teramo parte forte e schiaccia da subito la Vigor nella propria area di rigore. Dopo appena 40 secondi di gioco Pietrantonio pennella per Sanseverino che schiaccia di testa ma trova la respinta di Roberto. Poi De Gidio in Accorbazia non trova la porta. Il numero 10 va ad un passo dal vantaggio al settimo con una conclusione dal limite che si spegne di poco oltre il palo. Al nono Galesio stappa il match ma l'azione parte da lontano con un lancio panoramico di De Gidio a servire Pavone. Controllo e cross perfetto del 19 per l'incornata da due passi dell'attaccante argentino che striglia il suo quinto gol in campionato. Il Teramo continua a dominare il lungo e il largo. All'undicesimo Ferraioli fa partire un destro insidioso dalla distanza. Respinta corta di Roberto De Gidio in sacca ma sale la bandierina del secondo assistente che annulla per offside. Dopo il primo quarto d'ora in balia degli avversari i marchigiani provano a prendere campo e riescono a spaventare Di Giorgio con un calcio di punizione da posizione defilata. González cerca una traiettoria delle sue e colpisce la traversa. Il pressing della Vigor apre qualche spazio in più al Teramo che può sfruttare la velocità degli esterni. Come al ventitresimo quando Pavone conduce e scarica per Petrantonio che non ci pensa due volte e calcia ma non trova la porta. Alla mezz'ora gli ospiti tornano a farsi vedere pericolosamente ma l'ingenuité di Brugarello che si fa soffiare via la sfera all'ingresso dell'area di rigore. Di Sabatino Grazi e Biancorossi con un diagonale impreciso. Il Teramo si rilassa un po' troppo e la Vigor prende coraggio. Al quarantesimo punizione ben calciato da Gabbianelli di Giorgio vuole e neutralizza. All'intervallo Teramo 1 Vigor Senigalli a 0 e con le immagini di Manu e il Centurame passiamo alla ripresa. Dopo appena 37 secondi subito un pericolo per la difesa biancorossa con un colpo di testa da due passi di Pesaresi che non riesce ad angolare. Protesta il Teramo al quarto. Sullo scarico al rimorchio di San Severino De Gidio cade a terra all'interno dell'area di rigore. Perciò a ravolo di Torre del Greco il difensore interviene in anticipo sul pallone. Sempre De Gidio protagonista un paio di minuti più tardi con un tentativo dal limite che finisce fuori bersaglio. Al quattordicesimo Luis Fabian Galesio raccoglie la Sandy Govation di tutto lo stadio. Al suo posto dentro Torre. Subito dopo Pietrantonio confeziona per De Gidio che di prima intenzione non riesce a mantenere bassa la sfera. Il Teramo entra in modalità gestione concedendo solo qualche tiro dalla distanza ai marchigiani che comunque non riescono ad impenserire più di tanto di Giorgio. Attimi di paura poco dopo la mezz'ora quando Torre resta a terra per uno scontro all'interno dell'area di rigore con Pietri. Per il direttore di gara non c'è nulla. Dopo aver tenuto per qualche minuto il Bonolis con il fiato sospeso il numero 11 si rialza ma è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto entra Bussos che al 49esimo ha l'occasione per chiudere anzitempo il match ma di controbalzo colpisce la traversa dopo il tocco di Roberto. Alla fine dei sette minuti di recupero arriva il triplice fischio di Ciaravolo. Il Teramo batte la Vigor Senigalli 1-0 e in anella il settimo risultato utile consecutivo.